gorent è una società che gestisce il noleggio di mezzi per la raccolta dei rifiuti è una società che specialmente negli ultimi due anni è cresciuta molto in termini di fatturato di flotta mezzi e quindi di persone occupate all'interno dell'azienda oltre alla capomadre appunto che effettua noleggio per mezzi della raccolta dei rifiuti abbiamo un'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento di olio esausti ed un'azienda beatesca che produce Brunello di Montalcino questa eterogeneità di business ha richiesto appunto una flessibilità dell'infrastruttura che vede nel cloud la soluzione ideale la società è cresciuta tantissimo negli ultimi negli ultimi due anni quindi questo ha prodotto lato infrastruttura un aumento sostanziale dell'hardware con il cloud siamo riusciti ad abbattere sostanzialmente questi costi in quanto riusciamo ad abbattere tutto ciò che riguarda l'hardware puro riusciamo a creare delle delle macchine sia per gli operatori sia per i server che li devono supportare sia con estrema facilità ma anche con estrema flessibilità quanto macchine che non servono più vengono dismesse in vantaggio di nuovi di nuovi server dedicati ai business sempre più crescenti avviando la propria attività all'estero abbiamo dovuto creare dei presidi specialmente in Francia e in Spagna che hanno richiesto l'adozione di piattaforme informate con l'utilizzo del cloud siamo riusciti in poche ore a mettere in condizione di lavorare i colleghi esteri e di interconnettersi direttamente ai sistemi centralizzati questo produce una freschezza del dato una freschezza del dato a vantaggio del business abbiamo in tempo reale tutti i costi tutti i fatturati tutti i servizi di tutte le società del gruppo e a disposizione sia del management che della dirigenza che dei singoli commerciali questo si traduce in termini di business nell'avere una marcia in più rispetto al competitor vagliando il mercato alla ricerca del partner giusto alla fine abbiamo scelto Aruba abbiamo scelto Aruba perché si parla con le persone non parliamo con centrali telefonici non stiamo ore e ore al telefono con persone che non hanno la minima idea della problematica reale non parliamo con delle caselle di post elettronica ma riusciamo ad arrivare fino ai tecnici a quelli che dopo sviluppano le applicazioni che sviluppano l'infrastruttura e che permettono di disegnare infrastrutture ottimali data l'esigenza di gorent Aruba Enterprise ha progettato un'infrastruttura basata su Prava Cloud e posizionata sul data center di Bergamo successivamente ha messo in sicurezza l'infrastruttura attraverso un servizio di disaster recovery as a service con destinazione Arezzo quindi circa 300 chilometri di distanza ha ottenuto quindi un RTO inferiore ai 10 secondi quindi un intervallo di replica estremamente basso e un RTO di pochi minuti quindi un tempo di ripartenza veramente veramente basso i data center selezionati per il progetto di gorent sono estremamente sicuri ed affidabili questo perché certificati Ancetia da IR4 cosa mette a disposizione Aruba Enterprise al cliente mette a disposizione personale tecnico altamente qualificato sia in grado di progettare un'infrastruttura sia in grado di gestirla mette a disposizione un'infrastruttura di primo ordine alta affidabilità e disponibilità e questo permette al cliente di ottimizzare i suoi costi ridurre il TCO complessivo e quindi di essere più flessibile nel competere in un mercato estremamente complesso Grazie 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 Grazie